dal libro della genesi dopo che l'uomo ha mangiato del frutto dell'albero il signore dio lo chiamò gli disse dove sei rispose ho udito la tua voce nel giardino ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto riprese chi ti ha fatto sapere che sei nudo hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare rispose l'uomo la donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato il signore dio disse alla donna che hai fatto rispose la donna il serpente mi è ingannata e io ho mangiato allora il signore dio disse al serpente poiché tu hai fatto questo maledetto si tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita io porrò inemicizia fra te la donna fra la tua stirpe la sua stirpe questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno l'uomo chiamò sua moglie va perché ella fu la madre di tutti i viventi si è rodato gesù cristo sempre si è rodato eccoci giunti lunedì primo giugno 2020 iniziamo oggi il mese giugno totalmente dedicato al sacratissimo cuore di gesù e alla santissima eucaristia abbiamo letto la prima lettura della santa messa di oggi tratta dal capitolo terzo del libro della genesi diciamo brevemente che non è questo il modo di riconoscersi peccatori né di Adamo né di Eva Adamo dà la colpa a Dio la donna che tu Dio mi hai posta accanto mi hai dato dell'albero e io ne ho mangiato viene dopo quindi la colpa di Dio che ha messo accanto Eva ad Adamo ma se ricordiamo bene Dio aveva donato ad Adamo e Eva poiché lui si sentiva solo poi c'è la donna il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato e da dove viene il serpente la colpa è sempre di Dio e io ho mangiato viene dopo il frutto di questo peccato che è il peccato originale fu ed è tuttora la paura chi pecca quando noi facciamo l'esperienza del peccato ci sentiamo nudi proviamo una paura terribile di Dio della luce della verità di Dio e ci nascondiamo e cerchiamo di cambiare il volto di Dio cerchiamo di cambiare Dio cerchiamo di farci un bue che mangia fieno il vitello d'oro perché ci fa paura sarebbe più bello che noi dicessimo ho peccato non ho udito la tua voce nel giardino l'avevano sempre udita la sua voce la colpa è di Dio della sua voce non ho udito la tua voce nel giardino alla domanda di Dio dove sei? cioè dove sei finito Adamo? ecco questa è la domanda di Dio Dio incontra Adamo dopo il peccato con una domanda dove sei finito? dove sei? Dio sa dove è Adamo? non ha bisogno di porre la domanda ma la domanda la pone per Adamo dove sei finito Adamo? e Adamo avrebbe dovuto dire sono finito nel peccato questa è la risposta ho disobbedito non mi sono fidato dubitato di te è invece la colpa è della voce di Dio ho avuto paura perché sono nudo e e mi sono nascosto è sempre stato nudo Adamo è sempre stato quello che è una creatura solo che Dio non gliel'ha mai rinfacciato per Dio non è mai stato un problema la finitezza di Adamo non è mai stato un problema la sua creaturalità la sua radicale diversità da Dio chi fa pesare ad Adamo tutto questo è il serpente è il serpente attraverso la caduta nel peccato non dimentichiamolo mai la colpa è di Dio è sempre fuori da noi la paura la nudità in nascondersi guardate è sempre questo il protocollo che seguiamo colui che vive nel peccato e che non lo riconosce come tale e non se ne pente veramente vive tutte queste dimensioni forse sarebbe andata molto diversamente se Adamo fosse caduto in ginocchio e avesse chiesto subito perdono e avesse detto io sono quest'uomo ho proprio sbagliato Adamo ed Eva non chiedono mai perdono per il loro peccato non lo sanno neanche riconoscere con verità quest'oggi essendo appunto il mese dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù e al suo corpo dato e al suo sangue sparso vorrei prendere in mano e con anche tanto timore un libro un libro che tratta dei documenti dei processi di beatificazione di altri inediti di San Pier Giuliano Eymard questo santo vissuto nel 1800 nella prima metà nel 1800 fondatore dei sacramentini e ho questo libro molto bello la seconda edizione di questo testo abbastanza alto grosso e con voi vorrei leggere qualcosa di questo santo così innamorato del Sacratissimo Cuore di Gesù e dell'Eucaristia perché le due devozioni vedete vanno di pari passo non si può separare il Sacro Cuore di Gesù dall'Eucaristia e infatti abbiamo imparato a conoscere il Cuore Eucaristico di Gesù di cui celebreremo la festa il giovedì nell'ottava del Sacratissimo Cuore di Gesù è proprio posto lì questo sarà anche il mese del Corpus Domini ma andiamo con ordine al capitolo ventisettesimo di questo librone leggiamo che cosa diceva San Pier Giuliano Emard in certi paesi il Sacro Cuore non è abbastanza onorato abbastanza amato pregate dunque molto affinché coloro che dirigono le anime siano illuminati su questo quando vengono a fare gli esercizi nella nostra casa di Parigi di coloro miei buoni signori non fate nulla di buono per le anime perché non siete del vostro secolo siete sempre nel passato sentite bene cosa dice il Santo ci parlate sempre di Betlemme di Nazareth e del Calvario tutto questo è troppo antico mi guardano con aria stupita e allora riprendo eh sì dicono che il passato conduce al presente ma spesso accade di smarire la strada nostro Signore non sta più nel presepio o sulla croce perché non lo mostrate alle anime là dove egli è nel tabernacolo col suo cuore pieno di vita e tutto infiammato d'amore sì sulla terra tutte le cose grandi e buone non saranno fatte che per mezzo del sacro cuore ecco San Piergiuliano Heimard richiama la nostra attenzione al tabernacolo ci dice va bene parlare delle cose del passato no? Betlemme Nazareth il Calvario ma ormai non ci sono più Gesù non è più là l'avevamo visto anche con Carlo Cutis stessa cosa stiamo attenti a non perdere la strada dice padre Heimard dobbiamo andare al tabernacolo dove invece lui c'è e tutte le cose sulla terra saranno fatte attraverso per mezzo del sacro cuore e prosegue e perché questa azione del sacro cuore è tanto necessaria al tempo nostro perché è tanto necessaria guardate l'ha scritto nel 1800 ma adesso vedrete come è attuale vi dirò il mio pensiero è perché la grande malattia delle persone del mondo è l'indifferenza religiosa dopo il protestantesimo i cuori si sono inarediti di fronte a Dio Dio non è più amato guardate adesso a Parigi nessuno più ci insulta fanno anche a gara salutarci ma quelli che ci passano a fianco sono dei morti ambulanti non portano che dei cuori paralizzati ossificati non hanno più vita predichiamo loro le grandi verità e non si convertono predichiamo loro i grandi terrori dell'eternità e non si commuovono sono troppo malati quale rimedio potrà dunque guarirli mi sembra che tutti possiamo onestamente riconoscere la attualità di queste parole di San Pier Giuliano Emard la malattia delle persone del mondo è l'indifferenza religiosa i cuori si sono inariditi di fronte a Dio Dio non è più amato c'è questa indifferenza guardate che io credo che se siamo proprio onesti 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 magari a livelli diversi a gradi diversi ma la riscontriamo anche in noi sapete l'indifferenza il passare sopra l'andare oltre e non fermarsi io credo che se siamo onesti certo gradi diversi livelli diversi ma un pizzico di indifferenza c'è anche in coloro che sembra sembrerebbe che sembrerebbero come immuni credo che sia proprio un po' il peccato più frequente l'indifferenza religiosa la prova ma la prova ce la da lui sono forti queste espressioni quelli che ci passano accanto che non ci insultano che ci salutano che sono gentili quelli che ci passano accanto sono dei morti ambulanti portano cuori paralizzati ossificati non hanno più vita la prova la prova predichiamo loro le grandi verità e non si convertono predichiamo loro i grandi terrori dell'eternità e non si commuovono sono troppo malati questa è la prova che di fronte alle meravigliose riflessioni che ascoltiamo da vescovi da sacerdoti da predicatori bravissimi non riusciamo a convertirci oppure ci convertiamo tanto poco di fronte alle grandi verità della fede alle grandi verità dell'eternità non ci commuoviamo non riusciamo a commuoverci restiamo indifferenti perché siamo malati c'è come una una ritrosia una durezza di fondo ieri apro una parentesi che penso possa essere utile a questo discorso ieri mi è arrivata una un messaggio di una persona che dice che hanno portato una testimonianza di Santa Faustina Kowalska per dire a questa persona che sta sbagliando perché non si sente di ricevere l'eucaristia in mano e quindi preferisce fare la comunione spirituale e e questa persona probabilmente è rimasta un po' confusa forse hanno cercato attraverso l'esperienza di Santa Faustina di convincere che procedere così è un grave errore e allora mi chiede come rispondere a questa cosa guardate innanzitutto io voglio desidero proprio dirvi una cosa non bisogna mai spaventarsi non bisogna mai angosciarsi quando qualcuno ci contraddice o quando qualcuno porta delle prove delle sue prove a sostegno di tesi che sono contrarie alle tesi che una persona porta avanti non bisogna mai spaventarsi perché questa è una grazia perché è una grazia perché in questa maniera noi abbiamo la possibilità di applicare e va sempre fatto il principio di falsificabilità di Popper questo filosofo questo filosofo che che ci ha lasciato in eredità tra le tante cose anche questo principio e questo principio della falsificabilità è un principio che ci permette una come dire si ci permette un approccio serio vero alle teorie che si portano avanti secondo la sua teoria secondo questo principio della falsificabilità bisogna cercare di confutare una teoria per eliminare al più presto l'errore e correggerlo cioè è proprio il contrario di quello che facciamo noi noi ci circondiamo di persone che la pensano come noi e siamo contenti quando tutti ci danno ragione ma in questa maniera noi non abbiamo mai la possibilità di trovare gli eventuali errori che sono posti nella nostra teoria nella teoria che li si sta portando avanti e se io non vedo l'errore io non posso neanche correggerlo potrebbe esserci un errore reale o anche un errore presunto ma l'errore presunto perché sia presunto e quindi non reale ma solo presunto costringe la teoria ad essere ulteriormente verificata costringe la teoria a mettersi a confronto ed è una grazia è una grazia mettere la teoria a confronto è una grazia poterla sottoporre al principio di confutazione è importantissimo perché ne uscirà sempre più splendente sempre più bella noi dobbiamo voler bene ma non perché siamo santi ma mi verrebbe da dire perché siamo dobbiamo imparare ad essere santamente egoisti cioè dobbiamo voler bene a chi cerca di confutare la teoria o le teorie che uno porta avanti perché ci permette di verificare siccome dobbiamo tutti cercare la verità magari la nostra teoria è sbagliata oppure ha degli aspetti errati attraverso il principio della confutazione noi possiamo verificare e correggere se ci sono e questo è un primo aspetto la falsificabilità di fatto secondo la sua teoria è l'unico criterio scientifico che abbiamo cioè una teoria non potrà mai essere verificata del tutto può solo essere falsificata già Einstein da cui poi di fatto Popper trasse lo spunto già Einstein cosa diceva nessuna cito nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che io ho ragione no io ne posso fare mille di esperimenti ma nessuna quantità di esperimenti può dimostrare che ho ragione ma un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato capite perché io posso ripetere gli esperimenti all'infinito no ma poi le variabili sono talmente tante che ma un solo esperimento può dimostrare che invece io ho torto una scienza di fatto qualunque scienza anche la scienza teologica qualunque scienza e io aggiungerei anche qualunque idea affinché non cada nell'ideologia che è proprio la negazione assoluta del principio di falsificabilità cioè è colui che dice no io non mi voglio sottoporre al confronto non voglio sottoporre la mia idea la mia teoria il mio assioma al principio di falsificabilità e questa dice già che è un'ideologia e questo immediatamente ci dice che la mia teoria la mia teoria è puramente chiusa nell'ambito soggettivo cioè dell'io di me e quindi non potrà mai essere sottoposta al principio di falsificabilità capite perché è quello che sento io che provo io che penso io e vabbè ma come possiamo tentare una verifica di questa realtà è impossibile e infatti è quello che succede oggi con la fede la fede è stata relegata nell'ambito della soggettività della persona e in questa maniera se la fede io la vado a relegare e la vado a chiudere totalmente nell'ambito della soggettività dell'individualità e quindi dell'individualismo che cosa accadrà? accadrà che ognuno può dire quello che vuole e nessuno può dire il contrario di Tizio di Caudi di Sempronio perché tanto questa è la mia esperienza questo è quello che io sento questo è quello che io credo questo è quello che io provo e vabbè e allora abbiamo già finito perché il principio di falsificazione mi chiede un'oggettività sulla quale io possa andare ad agire capite? quindi se io ho una scienza e aggiungiamo anche un'idea che evita nel modo più assoluto di scontrarsi con l'errore proprio che non vuole proprio scontrarsi ma neanche si vuole scontrare con l'errore non vuole neanche mettersi lì a dialogare a verificare immunizzando immunizzando se stessa di fatto contro le critiche io non posso essere criticato nessuno mi può criticare no? perché c'è questa questa come dire assolutezza questa dittatura della soggettività dell'io siccome lo penso io siccome lo provo io è assolutamente giusto e io non voglio nessun confronto con l'errore e io non voglio neanche mettermi neanche espormi alle critiche no? in questa maniera io posso risultare in apparenza sempre vero perché? perché non mi scontro con l'errore mi immunizzo dalle critiche e quindi chi mi ascolta chi mi vede cosa vede? vede un'apparenza di verità bene secondo Popper questa non sarà mai una scienza ed è vero questa non sarà mai una scienza ma noi non vogliamo cadere in tutto questo teniamo sempre con noi il principio di falsificabilità perché è importante noi vogliamo sempre esporci alle critiche e al confronto con l'errore e allora andiamo a prendere detto questo spero di essere stato chiaro di essermi spiegato detto questo andiamo a prendere questo messaggio che mi è arrivato con la citazione mi metto una citazione dal diario di Santa Faustina Kovasca numero 160 e io adesso ve lo leggo e usiamo questo messaggio questo testo di Santa Faustina nel principio di falsificabilità per vedere se la teoria portata avanti fino adesso trova in una santa in una mistica come dire una una verifica che mostra l'errore nella teoria quindi che è una prova di falsificazione quindi una prova di errore è una critica fondata leggiamo perché visto che viene portato a riprova del fatto che è sbagliato rispettare la propria coscienza che mi dice no io in mano non mi sento di prendere l'eucaristia preferisco a stenermi prendere l'eucaristia fare la comunione spirituale siccome è portata come come prova che va contro questo modo di fare allora leggiamo dunque il primo venerdì era un primo venerdì del mese è il giorno è il mio giorno scrive Santa Faustina quello in cui devo stare di guarda davanti a Gesù in quel giorno il compito di riparare per tutti gli insulti le mancanze di riguardo verso il Signore di pregare perché in quel giorno non venga commesso alcun sacrilegio il mio spirito in quel giorno era infiammato di un amore particolare verso l'eucaristia mi sembrava di essere trasformato in una fiamma quando per prendere la Santa Comunione mi avvicina il sacerdote che mi dava Gesù attenti eh ecco adesso arriva il momento il fulcro della questio quando per prendere la Santa Comunione mi avvicina il sacerdote che mi dava Gesù una seconda ostia finì su di una mia manica e io non sapevo quale prendere ok essendo rimasta un attimo sopra pensieri il sacerdote spazientito fece un movimento con la mano perché la prendessi quando presi l'ostia che mi porgeva l'altra mi cadde nelle mani il sacerdote andò dall'altra parte della balaustra a distribuire la Santa Comunione e io teni Gesù nelle mie mani per tutto quel tempo quando il sacerdote si avvicinò di nuovo gli diedi l'ostia caduta perché la mettesse nella piscide dato che in un primo momento quando avevo preso Gesù non avevo potuto dirgli che un'altra era caduta prima di averlo inghiottito mentre tenevo l'ostia nelle mani sentì un tale impito d'amore che per tutto il giorno non potei né mangiare né riprendere conoscenza dall'ostia sentì queste parole desideravo riposare nelle tue mani non solo nel tuo cuore e all'improvviso in quel momento vidi Gesù bambino ma quando si avvicinò il sacerdote vidi di nuovo l'ostia allora confrontiamoci con questo testo adesso ve l'ho letto lo riprendiamo quindi Santa Faustina va a fare la comunione e nell'avvicinarsi il sacerdote probabilmente sbaglia prende due particole e una cade sulla manica l'altra invece viene data in bocca perché questa era la pratica e quindi lei rimane così no sorpresa sorpresa turbata da questa cosa rimane sopra pensiero lei scrive e il sacerdote le fa segno di ricevere l'eucaristia cioè quella che lui gli stava dando no perché lei rimane come come avete presente non rimane sorpreso tu non sai perché io sacerdote non me ne sono accorto faccio segno di prendere di aprire la bocca e di ricevere l'eucaristia e quindi quando presi l'ostia che mi porgeva l'altra cadde nelle mie mani quindi innanzitutto è un'ostia caduta non è un'ostia data è un'ostia caduta lei lo dice l'altra cadde nelle mie mani è un'ostia che sarebbe caduta per terra ma invece di cadere per terra cade nelle sue mani anzi su di una mia manica pensate un po' quindi prima cade nella manica sulla manica e poi cade nelle mani poi va nelle mani il sacerdote non si accorge di nulla prende e se ne va lei rimane con Gesù tra le mani quando il sacerdote si avvicinò di nuovo gli diedi l'ostia caduta perché la mettesse nella piscide cioè lei tiene tra le mani quest'ostia nel tempo che il sacerdote va a dare l'altro comunione e nel momento in cui ritorna gliela riporge affinché venga rimessa nella piscide perché non aveva potuto dirglielo che l'aveva tra le mani nel senso che aveva appena ricevuto l'ostia in bocca dove prima di glutirla giustamente non riusciva a parlare e quindi lei dice quando mentre tenevo l'ostia nelle mani senti un impeto d'amore non potei ne mangiare e riprendere conoscenza dall'ostia senti queste parole desideravo riposare nelle tue mani non sono nel tuo cuore e all'improvviso in quel momento vi di Gesù bambino ma quando si avvicinò al sacerdote di nuovo vi di l'ostia guardate io non so se sbaglio nella lettura ma da qui arrivare da qui ad arrivare a sostenere che Santa Faustina sostiene e Gesù con lei la bontà dell'Eucaristia ricevuta tra le mani a me sembra che ci passi un abisso cioè mi sembra veramente una forzatura brutta del testo perché primo è un'ostia caduta e quella che viene data nella messa normalmente non è un'ostia caduta qui è un incidente non è un atto volontario è un incidente è una distrazione è un errore e piuttosto che cadere per terra certamente è molto meglio che Gesù sia caduto sulla manica di Santa Faustina e quindi tra le sue mani questo è ovvio cioè mi sembra la cosa più logica da pensarci non è potuto entrare nella bocca di Santa Faustina è caduto sulla manica quindi tra le mani di Santa Faustina cento volte meglio che cadere per terra questo è sicuro ma questo non è un atto volontario né del sacerdote né di Santa Faustina è semplicemente un incidente un errore tutto completamente diverso da quello che questa persona sarebbe invitata a fare qui non c'è nessun fondamento a sostegno della comunione sulle mani spiace sarebbe bellissimo trovarlo se ci fosse ma a me non sembra di vederlo poi voi avete lo stesso testo lo potete andare a rileggere a me in tutta onestà sinceramente non mi sembra di vedere una similitudine tanto più che lei non la consuma lei non assume la particola dalle sue mani avrebbe potuto avrebbe potuto farlo l'aveva appena ricevuta la particola vista che l'aveva tra le mani prendeva anche l'altra cioè non è che faceva due comunioni la comunione era sempre quella riceveva due particole sapete che sacerdote magari quando ha una piscide che sta ci sono dentro qualche ostia che deve magari consumarle perché deve svuotare la piscide magari ci sono dentro cinque sei particole le consuma tutte in quella messa sì ma non è che fa sei comunioni è sempre quella stessa medesima comunione in quella santa messa capite non è che se io prendo un ostia grande dieci centimetri ci stanno dentro in quell'ostia tante piccole ostie da due centimetri io consumando un ostia di dieci centimetri faccio dodici comunioni è sempre quella stessa medesima comunione quindi lei avrebbe potuto consumare quella particola ma lei non lo fa lei non lo fa non assume la particola dalle sue mani ma scrive la ridà al sacerdote affinché venga rimessa nella piscide desideravo riposare nelle tue mani non solo nel tuo cuore certo bellissima questa cosa Gesù ha riposato nelle mani di santa Faustina quella frazione di tempo che lei l'ha tenuto non l'ha fatto cadere per terra è stata accorta attenta e Gesù ha riposato tra le sue mani bellissimo ma non c'è una frase di Gesù che dice per me va benissimo che tu mi diceva così che tu mi assuma così che tu mi prenda così assolutamente non c'è ci siamo esposti al principio di falsificazione alla critica alla verifica fatela anche voi come lo sto facendo io a me non sembra di vedere qui un testo che minimamente porti una valida tesi contraria a quanto fin qui detto e non mostra nessun errore per ora ve l'ho già detto cerchiamo nei santi cercate anche voi ma per ora questa prova di Santa Faustina dice esattamente il contrario cioè va a sostegno della tesi che abbiamo portato fino adesso perché Santa Faustina la riceve per errore per incidente per sbaglio dei sacerdote perché Santa Faustina la salva da cadere per terra e non perché lei la vuole ricevere in mano perché Santa Faustina la riconsegna ai sacerdote e non la consuma capite? così come e questo vedete che fa tanto bene ci fa bene perché confrontandoci con una verifica che cerca di mostrare un errore che di fatto a me non sembra di riscontrare aiuta ad approfondire il concetto l'idea il principio così come quelli che dicono questo è un altro che ho ricevuto ma mi hanno detto che Gesù ha dato la comunione e ha in mano agli apostoli nell'ultima cena allora vi ho già spiegato quello che ha detto la beata Caterina Emmerich però facciamo finta che non l'abbiamo detto facciamo finta che non l'abbiamo detto allora facciamo finta che la beata Caterina Emmerich non l'ha mai detto facciamo finta che accipite non vuol dire ricevere ma prendere va bene va bene togliamo esponiamoci proprio al massimo del principio di falsificabilità cioè rinneghiamo le nostre prove che non si fa eh in un in un confronto scientifico non si possono rinnegare le prove questo è impossibile va contro il principio di falsificazione capite non si può non è possibile non è scientifico non puoi rinnegare le prove però noi facciamolo noi facciamolo facciamolo mettiamoci proprio come dire eh diamo la palla no come se fosse una 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 partita di calcio no facciamo finta così consegniamo la palla all'avversario e lo mettiamo non solo con la palla al piede ma lo mettiamo davanti alla nostra porta per farci gol no cioè proprio mandiamo tutta la nostra difesa dall'altra parte del campo tutto l'attacco dall'altra parte del campo e lasciamo solamente il portiere e tutta la squadra diciamo così avversaria ma in modo di dire no tutta la squadra avversaria vicino alla nostra porta pronta per calciare la palla e fare gol guardate facciamo anche questo togliamo pure il portiere lasciamo la porta sguarnita cioè rinunciamo a tutte le due prove che io vi ho portato la beata Caterina Emmerich e a cipite via togliamole sapete che quando si tenta di fare un gol si può prendere il palo eh oppure si può lanciare la palla fuori no scusate se anche non avessimo le due prove che fino adesso abbiamo avuto che come difesa della porta sono belle potenti gli apostoli che avrebbero secondo l'altra teoria preso con le loro mani l'eucalistia gli apostoli gli undici erano tutti vescovi eh attenzione non erano laici erano tutti vescovi il collegio apostolico è fatto di tutti i vescovi l'episcopato arriva da lì quindi hanno preso il palo in pieno neanche con la porta sguarnita sono riusciti ad entrare ora vedete sottoporre la teoria al principio di falsificabilità permette di portare a casa un'altra prova perché io questo non me l'avevo ancora detta terza prova a sostegno della tese fin qui esposta quindi la beata Caterina Emmerich a cipite gli undici erano tutti vescovi gli apostoli sono tutti vescovi hanno tutti i titoli avrebbero avuto tutti i titoli per prendere l'eucalistia se fosse accaduto così non ci sarebbe niente di strano e questo loro prendere l'eucalistia essendo vescovi non autorizzerebbe nessuno che non è vescovo e che non è sacerdote che non partecipa del munus sacerdotale a prendere l'eucalistia in mano perché Gesù stante l'idea che ciascuno l'ha presa con le sue mani l'ha presa Gesù ha permesso che fosse presa se fosse accaduto ma non è accaduto se fosse accaduto Gesù avrebbe permesso che prendessero questa l'eucalistia a undici vescovi cosa che di fatto accade da sempre capite da sempre il vescovo e il sacerdote si autocomunica in tutte le messe noi vediamo questa cosa da sempre ma non c'era una persona che non fosse un vescovo lì presente quindi quindi hanno preso il palo e non hanno fatto gol un'altra volta e questo però ci serve ci serve perché ci consente di ulteriormente esponendoci al confronto alla critica all'errore ci consente interiormente di approfondire la teoria e di dire che abbiamo acquisito una terza prova di verità molto utile molto positiva questa cosa ci aiuta tanto bene chiudiamo questa parentesi è stata un po' ampia e andiamo avanti quale rimedio potrà guarirli quindi si chiede San Pier Giuliano Emard dall'indifferenza religiosa capite quando voi mi scrivete che dite padre ma siamo confusi padre non capiamo più niente padre ma perché confusi perché confusi ma è tutto così chiaro cos'è che c'è di confuso ma confusi le altre persone sono confuse ma non la dottrina non i santi non la chiesa l'insegnamento autentico della chiesa non c'è niente di confuso è tutto chiarissimo perché confusi ma non ascoltate le sirene non dobbiamo ascoltare le sirene non dobbiamo ascoltare i santi le prove le fonti ma quando poi arrivano le fonti voi fate benissimo poi a mandarmene perché per me è utilissimo è un confronto utilissimo quando trovate le fonti non vi spaventate analizzatele bene leggiamole bene leggiamo bene e vediamo se hanno scritto veramente così avete visto che non c'è scritto veramente così quindi non c'è bisogno di spaventarsi di confondersi sto sbagliando tutto ma no cos'è che sto sbagliando c'è niente di sbagliato leggiamo i santi senza farci spaventare leggiamo la scrittura la parola di Dio stiamo la parola di Dio stiamo i santi e questo dà il conforto massimo finché siamo in compagnia dei santi della parola di Dio del Magistero Autentico della Chiesa di San Tommaso d'Aquino della Redenzione in Sacramento 90-91-92 ma che cosa della Suma Teologie ma che cosa ci deve confondere cos'è che dobbiamo aver paura ma no ma no va bene potrà succedere qualche volta che sentiamo qualche raglio dell'asinello ma ma io quando ero piccolino mi portavo non sempre al parco a dare da mangiare l'asinello si chiamava Silvio che carino che era l'asinello Silvio non so perché gli ho dato sto nome vabbè comunque però era simpatico si chiamava Silvio fortuna che non c'aveva nessun amico che si chiamava Silvio perché se no poverino chissà che complessi ci sarebbero venuti a sentire che andavo da Silvio a dargli il pane che invece andavo dall'asinello vabbè comunque si chiamava l'asinello Silvio e lui raliava un po' la bestiolina perché quando arrivavamo noi bambini sabato mattina che andavamo a dargli il panino tutti diamo sto pane sto asinello poverino era obeso perché mangia tanto di quel pane che non finiva più vabbè però c'erano anche le caprette che erano simpatiche e lui raliava perché ci vedeva arrivare e quindi ci veniva incontro a prendere il panino che gli portavamo ma nessuno di noi si è mai spaventato no ma non dobbiamo spaventarci se qualche asinello fa un po' di diversi ma no ma stiamo tranquilli ma andiamo avanti sereni noi siamo in compagnia delle aquile di San Piergiuliano Heimard ma noi stiamo a guardare il cielo non stiamo mica a guardare la terra e i suoi e i piccoli e i piccoli asinelli che ci girano intorno andiamo avanti tranquilli e sereni senza paure sempre disposti al confronto sempre aperti al confronto sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in noi con dolcezza ma nello stesso tempo con fermezza esponendoci volentieri a verificare milioni di volte le teorie portate ma con fonte autentiche autentiche però quindi hanno fatto bene citare Santa Faustina Kovaska va bene l'hanno citata a sproposito però vabbè sapete non è che tutte le tortescono col buco può succedere che una torta non esca col buco o che davanti una porta completamente scoperta l'unico tiro che potevi tirare l'hai preso il palo purtroppo nella vita succede anche questo fa niente andiamo avanti rendiamo grazie a Gesù che ci ha dato anche una terza occasione di prova quale rimedio potrò dunque guarirli uno solo l'amore di Dio scrive San Pier Giuliano Ehmard e dove prenderlo questo amore oh nella sua sorgente nel cuore di Gesù bisogna gettare le anime nella fornace del sacro cuore bisogna insegnare loro ad amare il sacro cuore voi direte come fare la risposta è facile scrive l'amore non si dà che per mezzo dell'amore dite loro Gesù è là e vi ama come mi ama me così indifferente così miserabile sì vi ama e dimostrateglielo ripetetelo fino a farli stizzire se si stizziscono meglio questo che niente è segno che la vita comincia a tornare mi direte forse in qual modo si ama a simile domanda sentite che belle parole di San Pier Giuliano Ehmard stupende a simile domanda non c'è risposta Gesù non ci ha detto mi amerete in questa o in quella maniera ma amatemi e basta l'amore non conosce né misura né metodi se avessi dei limiti soffocherebbe se amate l'amore vi insegnerà ciò che bisogna fare ma voi ditemi ma voi ditemi ditemi quale donna quale uomo che di voi innamorato vi ha mai detto parole così ma ditemi chi no ma nessun uomo è capace solo Dio solo Gesù è capace a dire cose così belle in quale modo si ama noi abbiamo sempre questa domanda come si fa in quale modo si ama non c'è risposta a questa domanda ci dice San Pier Giuliano Ehmard perché Gesù ci ha detto solo amatemi Gesù non ci ha detto il modo il modo è affidato alla tua fantasia è affidato all'impeto del tuo cuore il modo è affidato la misura il metodo è affidato alla tua intelligenza alla tua volontà perché se io Gesù che mi lascio amare io Gesù dovessi mettere un limite al tuo amore basta l'amore sarebbe finito l'amore soffoca l'amore quando ha un limite quando viene costretto quando è come avete mai prendete un'aquila chiudetele in una gabbia muore prendete una rondine chiudetele in una gabbia muore in una gabbia potete chiudere un papagallo quello sì ma neanche un uccellino potete chiudere in gabbia muore stanno bene sono i cocoriti in gabbia i papagalli e basta non potete chiudere in gabbia un'aquila se domani mettete in gabbia un'aquila lei muore non può vivere perché non può sopportare la misura il metodo soffoca chi fa i calcoli chi si mette lì col bilancino a calcolare tanto quanto ha già finito di amare se amate l'amore stesso dice San Pier Giuliano Emmerd l'amore stesso vi insegnerà ciò che bisogna fare è bellissimo domani andremo avanti con San Pier Giuliano Emmerd perché vedete ci fa proprio toccare le vette le vette stupende dell'amore per il sacro cuore di Gesù e per l'eucaristia quindi viviamo bene questo mese usiamolo bene per approfondire il più possibile il nostro amore per l'eucaristia e per il sacratissimo cuore tra l'altro tra pochi giorni sarà il primo giovedì del mese il primo venerdì del mese il primo sabato del mese quindi date per noi importantissime carissime con tutto quello che abbiamo già detto e la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre Amen se lo dato Gesù Cristo sempre se lo dato